buongiorno a tutti oggi siamo qui per mostrarvi il nuovo mezzo che ha comprato faro da sostituire al suo volide con l'albero spessato attenzione eccolo adesso vabbè è un po' è un po' affaticato allora intanto subito possiamo notare la potenza della ZX marcia senza fascetta fai vedere la carena qua la carena che è stata sapientemente aperta per non tirare giù la forcella nuova nuova si poi fai vedere come l'hanno forata anche la forata in un momento di crisi in un momento di crisi cacchio però vabbè comunque qua dentro bello questo ufo 9000 chilometri nuovo vabbè è perfetta la strumentazione no l'ha spaccato maledetto cacchio mi fai spaccato sarà caduto 25 volte radiatore l'acqua l'hanno cambiato tante volte sicuramente poi andiamo un po' parafango ah giusto il cerchio è quello del fast rider nuovo del dopo il 2001 con gomma che sporge vedete poi mi stavo ammazzando no no mettila via mettila via fino a che si rompa ok stavo facendo dei danni parafango tagliato vabbè pompa freno pompa freno è quasi wifi comunque quasi wifi c'è però è quasi convertita queste manapole le avevo anch'io nel mio primo zip le pro grip senti come è morbida la gomma è nuovo l'ho cambiata ieri ma non lo vedi vabbè poi vabbè fai vedere il parafango il parafango qua l'hanno modificato per la pista per la posta più che altro ah giusto il cilindro è già dei modelli nuovi originale però vabbè è 50 fai vedere qua i tasti d'accensione che è il plaques oh attento cacchio sto qua è buono ancora però è buono è buono questo mangiamo la pranzo quello frecce fai vedere dall'altra parte no non si può bisogna spostare tutto non è possibile non c'è niente di buono niente no tubi di ferro cerchio pulito qua c'è la rogna dentro sì sì perfetto comunque dai è nuovo chi lo vuole lo vendo a 6.000 euro questo è un pezzo è il pezzo forte questo qua questo qua è il pezzo forte tu non ce l'hai sul tuo no infatti pensavo di montare sai che cos'era quello sì per l'aria era il filtro dell'aria era il circolo per il filtro del del tubolare questo qua ascolta boh io comunque direi che ah adesso qua 6.000 euro ce li facciamo solo se lo smembri intero per me ne fai 3.500 dai se qualcuno lo vuole 3.500 se qualcuno lo vuole faccia uno sconto 3.000 però con po' c'è la rassicurato e in contrassegna non scredisci fai un contrassegno quindi non si sa mai che non si fidino così stai tranquillo questo è un po' così carburatore è Weber o dell'orto? è Weber o dell'orto? è Weber no allora allora si scioglie da solo questo è contrassegno aspetta aspetta che vediamo un po' filtro ok ah giusto il copricarter è o del fast rider o del quartz la pedalina è a posto però basta non c'è mica niente da far vedere no no basta le sospensioni sono RS24 4 gialle paioli cosa sono queste cose sono state lavorate dalla Balossi ah sono lavorate e poi le ha presi anche cosa? tedeschi 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 eh sì mi pareva infatti c'è scritto anche lo scarico è stato lavorato prima da Polini però poi non ci piaceva e quindi Handmade l'abbiamo fatto fare Leo vince Handmade che mi ha sicurato lo scarico da 84 cavalli sì si vede che qua hanno risaldato i coni per fare eh sì 84 cavalli però non all'altro perché il cilindro essendo un modello nuovo ha più cavalli di quello vecchio 84 cavalli alla ruota anteriore però sì si vede poi vedi che c'è riempita di fango infatti perché devono troppi cavalli vedi qua non viene anche via lo sporco si è calcificato bene queste gomme erano le Michelin S1 aspetta S1 ce l'avevo io sul mio primo zip pietra 9 pietra comunque queste qua sono guarda il dot secondo me guarda che deve essere tipo del 95 queste qua sono più vecchie dello zip vediamo 55 non riesco neanche a leggerlo forse non esisteva neanche il dot quando ho fatto queste gomme c'è scritto dall'altra parte forse vabbè è troppo difficile fai vedere illumina qua troppo difficile 30 306 c'è scritto no ma non sarà quello lì sarà sotto dove non si vede vabbè comunque è marzo bene dai comunque abbiamo fatto vedere tutto siamo a posto basta se abbiamo altre novità qui dentro non hai niente di bello da farmi vedere il fanale come hai messo? bello il fanale no perché c'ha perché c'ha il c'ha il trucco delle 2000 tipo c'è il trucco quello a stucco delle 2000 sopra me l'hai messo tu l'hai truccato l'hai truccato basta non c'è più niente di buono un saluto beh basta se qualcuno lo vuole il contrassegno lo sciudisco lo porto in posto così poi poi mi diranno loro se vi comportate bene se pagate anche altri 20 euro vediamo questo no se pagate 20 euro vediamo il pezzo forte che è il ricordo della futa ah giusto l'albero 180 che ha rotto in futa se ti ho visto il video se lo ricorderà va bene comunque dal faro garage tutto ci vediamo alla prossima con il contrassegno un saluto un saluto